L'iniziativa è molto bella perché innanzitutto si valorizzano i valori dello sport e si dà la possibilità a chi ha delle problematiche di partecipare alle iniziative sportive, ma dall'altro lato si cerca di utilizzare anche l'iniziativa per sensibilizzare i valori della prevenzione, la prevenzione al timore al seno che per le donne è stata in passato una malattia devastante che grazie alla prevenzione si è diventata in una malattia assolutamente curata. Anche perché ci sono delle strutture di ricerca in Lombardia? Ci sono delle strutture importanti sia di ricerca, sia di prevenzione, sia di cura, direi che come in tutta la sanità, ma anche in questo ambito la Lombardia ha una capacità e una sanità eccellente che dà l'unità che conosciamo l'eccellente. Ecco l'altro più possibile attraverso tutte le forme di visibilità, quindi due cause importanti che si uniscono. Sì, innanzitutto al volontariato, alle persone che si impegnano tanto per gli altri, ma credo che sia da dire grazie a tutti gli organizzatori. e arriva a dire come questa della combattere insieme sia la strada più giusta. Quindi buon divertimento e sosteniamo valori che sono fondamentali per la nostra società. Grazie. Io devo dire che come assessorato sono anche orgogliosa perché sono da anni che stiamo anche lavorando per cercare anche la possibilità di guarire se si interviene presto. Quindi assolutamente la diagnosi precoce è qualcosa di fondamentale. sport, ho partecipato a cinque mondiali, ad Olimpiadi e lo sport ancora oggi per me è qualcosa che mi ha riempito la vita. Io sono orgogliosamente ambasciatore e io personalmente... a definirla è una quantità di intrapressi che è normale studiare, che sono una persona...